Attraverso una convenzione stipulata tra il Dipartimento regionale per la protezione civile e il Comune di Caltanissetta, il capoluogo nisseno riceve un mezzo anti-incendio di pronto intervento per l'emergenza nel territorio urbano. Un pick-up dotato di autopompa che verrà utilizzato dalle associazioni di protezione civile, con cui il Comune stipulerà un apposito accordo per l'impiego del mezzo. E' quanto si legge in una nota diffusa da Palazzo del Carmine. A siglare la convenzione il vice sindaco Felice Dierna, delegato dal sindaco Giovanni Ruvolo, a rappresentare l'amministrazione comunale. Morizio Costa della protezione civile. Nella nota Dierna spiega che alla luce delle emergenze che ci sono state e in vista della stagione calda con il relativo rischio incendi, non possiamo che accogliere con favore l'atto stipulato oggi tra le due amministrazioni, che prevede anche un più stretto collegamento nelle comunicazioni tra la protezione civile regionale e comunale.